Musica Questa mattina siamo qui al liceo per parlare di una nuova iniziativa, di un nuovo progetto formativo che è il liceo sportivo. Prevede, praticamente è una branca, chiamiamola così, del liceo scientifico. Praticamente non si insegnerà più latino e storia dell'arte e al triennio verrà meno un'ora di filosofia rispetto ai canoni tradizionali del liceo scientifico. Tutte queste ore verranno sostituite da attività motorie e sportive. Abbiamo fortemente voluto, come dicevo prima, questo indirizzo che credo che riscuoterà sicuramente la simpatia e l'attenzione degli utenti del territorio, anche perché siamo uno dei pochissimi licei in tutta la regione Calabria. Ma grazie alla sinergia con il comune di Cedrari e anche con i comuni viciniori, noi possiamo usufruire di impianti sportivi, il campo sportivo di acqua appesa, un comune vicino con il quale abbiamo già avviato dei contatti e nei prossimi mesi formalizzeremo proprio questo accordo, i campetti che abbiamo qui a Cedraro. Per cui abbiamo tutte le potenzialità per far sì che questo liceo sia un qualcosa di valido e possa formare dei ragazzi sani, preparati, perché ripeto, è rimanere un liceo scientifico ma con indirizzo sportivo. Professore di scienze motorie ma anche assessore al comune di Cedraro. Ecco, Aita, un momento importante anche per il liceo, la crescita passa anche dallo sport. Si cerca di colmare delle lacune che sono state sottolineate dalla Commissione europea e quello che indicava all'Italia di colmare queste lacune sulla cultura dello sport come disciplina fondamentale per la formazione e la conoscenza dell'individuo. In provincia di Cosenza siamo riusciti, lei sa che la provincia di Cosenza come territorio è grande quanto la regione Liguria. ed era così vasta e ha pensato bene alla provincia di Cosenza di istituirne tre licei sportivi, uno sull'area urbana di Cosenza, un altro sull'Oioni e sul Tireno. Abbiamo avuto la fortuna ma l'insistenza da parte nostra è stata fondamentale, sul Tireno è toccato invece ai licei di Cedraro. Per rafforzare il concetto del liceo indirizzato all'andamento sportivo ma con la possibilità di integrarsi in quello che è un mondo particolare come quello del giornalismo sportivo. Sì, noi siamo lieti di poter offrire come è stato già detto questa nuova offerta formativa del liceo sportivo agli studenti del Tirreno-Cosentino e anche naturalmente a quelli dell'interno dando risposta finalmente all'esigenza che ci è stata già manifestata negli anni precedenti. Grazie